Fino a bambino Ciao carissimi del osservatorio Granata, è un grande piacere stare con voi. Ma credo che nessuna squadra al mondo abbia una storia come quella. Io ho provato a dirlo anche tante volte, dovremmo riuscire a valorizzarla di più. Per me il Toro è l'unico che c'è. Per me dire da Graziani e da Zaccaredi che esce dal campo d'allenamento. E io sono lì sulla rete attaccato a vedere l'allenamento così per prendere il trapto, andare in via Sansegondo e poi andare in corso Vittorio. Uno scelto mi disse, bravo Mariani, se la sentite qua, se vuoi mi dire da Graziani o da Zaccaredi? Ci sarai sempre tu, come mai scopere me. In quale oratorio va a giocare? Il mio amore è il mio amore, tu sono amore e me, il tuo amico che c'è. Ci sarai sempre tu, come mai scopere me, il tuo amico che c'è. Come fa la tua città? Mi scoppia il cuore per me, il mio amore è il mio caffè. Mi scoppia il cuore per me, il mio amore è il mio amore, il mio amore è il mio caffè. Mi scoppia il cuore per me, il mio amore è il mio amore, il mio amore è il mio amore, il mio amore è il mio amore. Ma stampe il cuore per me, il mio amore è il mio amore è il mio amore, il mio amore è il mio amore è il mio amore. Grazie a tutti.